E' una buona cosa, visto che sono l'unico maschio della specie. Un'importante scoperta. Siamo quasi certi di aver incontrato un Makao blu selvatico nel cuore della giungla amazzonica. Non siamo gli unici. Potrebbe esserci un intero stormo. Noi dobbiamo aiutare Linda e Tullio a trovarli. Noi soffre di personalità multipla. L'uccello metropolitano, che ha appena imparato a volare, sta per lanciarsi... Ehi, aspettate! ... nell'avventura. Andiamo tutti nell'Amazzonia. Evviva. Quest'anno... Addio, Smog metropolitano! Non riesco a credere che li abbiamo trovati. Tu chi sei? Da dove spunti fuori? Ehi, indietro! Papà! Papà? Guardatemi, sono nonno! Molto piacere, signore. Potete chiamarmi Papone. Ragazzi, andateci piano con Papone. Tu chiamami, signore. I creatori dell'era glaciale presentano... Welcome back. Roberto? Ciao, eh, io sì, sarei insomma il suo altro. Non mi hai mai parlato di un Roberto. E questo è il vero aspetto di un Makao blu? Blu. Joyelle. Sono mentine per l'alito. Mangiale. No, 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 no! Non la scatola! Sputala! Subito! Fuori! Incredibile. Pedro. Mico. Avevamo tutto. Potevamo diventare leggende. Insomma, sì, siamo già super mega fichi, ma... Capisci che dico? Luis. Ehi, come va? Inizio come l'olio? Su, in gamba, amico! Roberto. Alloggerete nel mio nido. L'ho fatto semplicemente con la mia forza. E i miei muscoli. Miguel e Gabi ha il suo debutto. Tra poco vi ruvinerò la festa. Funziona solo se la faccio io. Ok. Ti amo. Che pezzo di gnocco. Rio 2. Indietro, barbaro! Che carino! Oddio! Che pezzo di gnocco.